Giovani e lavoro. Assumere con il contratto di apprendistato? Attivare il rapporto di tirocinio? Formulare il progetto di alternanza scuola-lavoro? Tante domande, una sola risposta. Lavoro-informazione. Il nuovo modulo specialistico di Tutto Lavoro Suite che risponde a tutti i tuoi dubbi in tema di apprendistato, tirocinio, alternanza scuola-lavoro. Con Apprendistato puoi verificare se e quanti apprendisti assumere contemporaneamente, come redigere il contratto, impostare e monitorare il piano formativo. E puoi gestire contemporaneamente fino a 20 piani formativi. Tirocinio ti aiuta a definire quando attivare il contratto, ti indica i documenti necessari e la normativa da applicare. Con Alternanza scuola-lavoro puoi formulare il progetto, redigere la convenzione e verificare le tutele da attivare in tema di sicurezza. Lavoro-informazione. Le vostre domande. La nostra risposta. Scopri di più su lavoroinformazione.one.it